Sfida politica, sfida aperta, sfida per la poltrona di sindaco di Vicenza. C'è un candidato in controluce, chi sarà mai? Un indizio c'è, GP, una sigla che ci ricorda l'equazione che noi di Rete Veneta abbiamo proposto il 18 gennaio, GP uguale PD. E in effetti avvicinandoci è proprio lui, GP, Giacomo Possamai, il candidato del Partito Democratico. GP, una sigla che oggi adotta anche lui, richiamando quella che noi avevamo anticipato 43 giorni fa. È passato un po' di tempo ma GP ora guarda al futuro, anzi ne fa proprio uno slogan, Vicenza ora il futuro. Annuncia che punta sui quartieri e presenta le forze politiche e civiche che lo sostengono. Ci sono già da adesso in poi, Vinova, Pi Europa, altre forze politiche e civiche nei prossimi giorni si aggiungeranno, annunceranno ufficialmente il sostegno. Io sono convinto che nell'arco di una settimana, dieci giorni, avremo la coalizione completa. E il Partito Democratico? Beh, Giacomo Possamai non lo cita, non ancora, ma del PD alla tessera ed è capogruppo in consiglio regionale. Insomma, il PD c'è, ci mancherebbe. Semmai un ragionamento andrebbe fatto sul terzo polo. Sì perché il 17 gennaio la senatrice di Italia Viva, Daniela Sbrollini, schiacciava l'occhio ai riformisti. Sappiamo che le persone riformiste per un progetto di Vicenza città diverso dai due poli sono tanti. I riformisti sono tanti, ma nel PD di oggi c'è la svolta movimentista voluta dalla nuova segretaria Elie Schlein, che dice no alle trivelle, no al nucleare, no alla flat tax e sì alle tasse sulla successione e sulle donazioni. Apre una discussione sulla legalizzazione della cannabis e sullo use soli. Insomma, ora c'è un altro PD che non è più quello del Jobs Act, degli 80 euro di Industria 4.0 e dello Sblocca Italia. Un PD molto diverso da quello riformista di Renzi e Calenda. E allora, in queste amministrative, come farà il terzo polo a sposare un partito democratico così lontano senza entrare in contraddizione? Certo, Giacomo Possamai apre le sue porte con molta speranza. Col terzo polo i rapporti sono sempre stati buoni. Io spero che ci sia la possibilità di costruire un percorso comune. Chiaramente la scelta è prima di tutto loro, lo capiremo nei prossimi giorni. Ma intanto è forza Italia a fare le avance al terzo polo e a proporre un'alleanza inedita in nome di similitudini e somiglianze politiche. In Parlamento con il terzo polo il dialogo è costante soprattutto sul fronte della giustizia. Per questo a Vicenza si potrebbe aprire un dialogo tra il centrodestra e il terzo polo.